Nuova denominazione per le sei spiagge libere della fascia costiera di Ponte Cagnano-Faiano. A stabilirlo la giunta municipale con apposita delibera. Ogni denominazione scelta è legata ad un simbolo della storia locale e si pone in linea con la volontà di valorizzare la memoria collettiva. I bagnanti avranno la possibilità dunque di trascorrere le loro giornate al mare sulla spiaggia degli Hampshire dal nome del battaglione alleato che sbarcò sulla costa di Ponte Cagnano nel 1943, sulla spiaggia degli Etruschi o sulla spiaggia Padre Miori dedicata al parroco di Picciola per il quale è in corso una causa di beatificazione. A seguire la spiaggia delle Tabacchine, la spiaggia dei Gili di Mare e la spiaggia dei Picentini. Un plauso sottolinea l'assessore al marketing territoriale Adele Trigiano va rivolto alle associazioni che ci supportano in questo grande progetto di rinascita come la Proloco Etruschi di Frontiera che hanno tenuto a cuore da sempre il destino della nostra bellissima costa.